La squadra mobile di Lecce ha proceduto all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare a carico di Francesco Antonelli, quarantenne di Lecce, per rapina aggravata commessa lo scorso 24 luglio. Quel giorno, come si vede dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio del distributore IP in Via Merine, stessa zona della rapina del 14 settembre, un'automobilista che si accingeva ad effettuare il rifornimento di carburante è stato rapinato dalla propria BMW. Il rapinatore è arrivato a piedi, con sé aveva un trolley e indossava una felpa con cappuccio. Dalle riprese, i tratti somatici si notano ed è stato riconosciuto dai poliziotti. E ancora, un altro episodio è stato denunciato da un automobilista. Il 6 agosto, un individuo gli si era avvicinato nei pressi di Torre del Parco e con una scusa aveva tentato di entrare in auto brandendo un coltello da cucina. Non solo, la stessa sera, un altro uomo è partito a tutta velocità, notando il soggetto che con fare minaccioso gli si era avvicinato sempre nella stessa zona. Le caratteristiche somatiche di Antonelli coincidevano con quelle dell'autore della rapina di luglio. Alto 1,80 m, calvo, abitava in una traversa di via Merine a poche centinaia di metri dal distributore Teatro della Rapina. Durante la perquisizione presso la sua abitazione, gli agenti sequestrarono la felpa, le scarpe e il trolley. Si è poi scoperto che l'uomo usava la piccola valigia per cambiarsi d'abito subito dopo il colpo. Tutte le vittime hanno riconosciuto Antonelli. Le auto rapinate, una Y10 e la BMW, non sono mai state ritrovate.